siamo qui con davide del gruppo bahai di padova e adesso andremo ad affrontare un nuovo argomento che è la promessa della pace mondiale intanto ricciao davide ciao ricciao a tutti quanti abbiamo introdotto abbiamo introdotto l'argomento nella prima ora ma adesso parlando della promessa della pace mondiale mi è rimasto impresso prima che hai detto che è qualcosa di inevitabile la pace qualcosa di inevitabile perché inevitabile questa è sempre la come dicevo prima la comprensione di un mia insomma perché io sono un filtro questo filtro sta portando delle parole che cercano un attimo di spiegare quello che io ho capito e compreso allora inevitabile perché intanto la volontà divina come lo vediamo nella creazione e a prescindere da noi cioè nel senso il sole sorge la natura è rigogliosa e continua e conquista anche le zone che noi andiamo a distruggere no abbiamo visto i filmati di Chernobyl come la città fosse completamente la natura si sia ripresa con la città punto qual è che noi non comprendiamo questo aspetto e cioè che la volontà di dio è una forza più grande di quello che noi possiamo immaginare noi lo diciamo a parole ma non ci crediamo e soprattutto pensiamo che e sia stata data chissà quando chissà come no è stata data ma viene data e verrà data continuamente quindi questo è importante quindi inevitabile perché 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 dio lo vuole è una volontà e quindi lo 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 passa attraverso questi messaggeri quindi sono loro che sono il tramite no infatti si fa un esempio no loro sono gli specchi tersi puliti che riflettono la luce del sole se noi dovessimo da lontano guardare questo specchio che ci abbaglia non potremmo a volte potremmo anche confonderlo in un sole perché perché noi possiamo percepire la manifestazione ma non possiamo percepire dio perché talmente grande la sua dimensione ma possiamo percepire quella parte di volontà che lui ci fa conoscere per il tempo in cui noi viviamo altrimenti questo però è una realtà che abbiamo visto in tutti i testi sacri non posso dirvi tutto ma verrà qualcuno dopo di me che vi istruirà questo lo vediamo in tutti i testi ecco che è arrivato uno nuovo che si chiama gloria di dio che è un altro pseudonimo come figlio di dio come l'amico di dio l'amico di dio era ad esempio abramo o colui che parlò con dio era mosè o il figlio abbiamo detto di dio è gesù eccetera eccetera sono tutti pseudonimi che è caratteristiche spirituali della manifestazione che in quel momento arriva certo e quindi è volontà di dio la pace inevitabile la pace inevitabile perché lo vuole lui a prescindere dalle nostre guerre però le guerre è un bel no nel senso che possiamo anche ucciderci e autodistruggersi o tentare di autodistruggersi probabilmente è insito in noi questa questa non lo vogliamo credere ma probabilmente abbiamo più volontà di autodistruggersi che creare quindi la pace quindi c'è in noi una incapacità come si dice di avere coscienza di quello che vogliamo no come umanità sembra che noi continuiamo impreterriti in qualche momento della nostra storia in qualche perdiamo la bussola e ci cerchiamo di farci fuori continuiamo a voler sottomettere gli altri a livello di per avere la supremazia perché non riconosciamo la volontà divina fondamentalmente non siamo ora che delle religioni promuovano la guerra queste organizzazioni non hanno niente a che a vedere con la divinità con dio sono dei qui sono dei feticci sono forse una delle cause del problema quindi non può esistere una religione che promuove la guerra ci sono uomini religiosi che promuovano la guerra ma non parole sacre che promuovano la guerra ma ne questo nemmeno nell'islam anche nelle interpretazioni più 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 assurde che sono state fatte sono tutte sempre fute di teologie sì però l'uomo ha sempre proposto la guerra quando si è in qualche modo staccato dalla fede allontanato da qualcosa di spirituale esatto e allora l'esistenza in questo in questo piano diventa l'unica cosa concepita e lì la forza il braccio di ferro diventa lo strumento col quale si sottomettono gli altri sì questo abbiamo perché conosciamo questo metodo no abbiamo consapevolezza che questo è un metodo tutto sommato che funziona no e beh in effetti si funziona no e ecco il cambio ecco epocale è proprio la chiusura di questo modo antico di di costruire il mondo di costruire il futuro leggo queste sono cinque righe poi dopo c'è anche un piccolo audio che può dare sempre una base di riflessione dice con radicarsi di tale visione cioè si è sviluppato nelle faccende umane una paralizzante contraddizione da un lato uomini di tutte le nazioni proclamano non solo la loro disposizione ma anche la loro brama di pace e armonia e di porre fine alle strazianti inquietudini che affliggono l'esistenza quotidiana dall'altro lato tuttavia si sanziona in modo acritico l'asserzione secondo cui l'essere umano ingorabilmente egoista e aggressivo è incapace di edificare un sistema sociale ad un tempo progressivo e pacifico dinamico e armonioso un sistema che pur favorendo la creatività e lo spirito di iniziativa dell'individuo si fondi sulla cooperazione sulla reciprocità da un lato quindi siamo contraddittori perché alla fine chi pensiamo possa creare la pace così come creiamo la guerra possiamo assolutamente creare la pace non è vero che non è evitabile la guerra o la violenza è evitabile l'abbiamo dimostrato esseri umani hanno dimostrato che hanno vinto interi eserciti beh gandhi è l'esempio più tipico che si fa sempre ma anche san francesco no nell'ambito cristiano o anche altre persone hanno vinto la violenza e hanno dimostrato che è possibile l'uomo dovrebbe sì cioè dobbiamo conquistarci conquista sì ma togliersi questa questo desiderio di predominare sugli altri sentiremo conquistarci dobbiamo andare a ricercare cos'è l'attente e insito nel nostro cuore noi stiamo siamo stati dobbiamo uscire dal 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 processo della animalità che ci ha caratterizzato dobbiamo riuscire a sbrogliare questa matassa questo purtroppo perché abbiamo abbandonato la nostra realtà spirituale l'abbiamo gettata via assieme anche all'organizzazione religiosa ripeto altre volte abbiamo analizzato questo aspetto e cioè che in effetti le relazioni religiose del passato che anche attualmente esistono non hanno sempre dato prova di grande come dire costruzione di pace e questo per questo a volte non ci abbiamo più creduto non solo sì sì ma la pensiamo solo alla guerra tra protestanti cristiani o anche nell'ambito dell'is ma anche nell'ambito buddista ci sono state guerre tra diversi popoli quindi è ovvio che l'essere umano dice ho studiato la storia e vedo sì delle grandi o grandi perplessità nel credere che le religioni oppure non ci credo proprio guardando gli esempi negativi sicuramente ma possiamo anche concentrarci sul fatto che esistono anche esempi positivi ma che molto del nostro essere oggi qua è dovuto proprio a questi messaggi religiosi cioè a questa diciamo promana è questo promanare da parte di dio verso l'umanità quindi la cultura a cui noi apparteniamo uno del soggetto principale che l'ha formata è sicuramente è la divinità cioè nel senso che qualcuno direbbe anche nella parte negativa io dico no i testi i vangeli non parlano di aspetti negativi o parti a limite danno delle delle indicazioni magari ad esempio nel corano magari ci sono delle organizzazioni un po più pressanti un po più dure ma perché le esigenze dell'epoca chiedevano le esigenze il periodo del luogo in cui è nato chiedeva questa questa volontà però nel suo aspetto generale vediamo studiando bene vedremmo quanto invece quel libro poteva e potrebbe essere letto in ambito pacifico anche per dire parlo del corano come elemento che spesso qua in occidente viene visto solo come negativamente insomma ecco ma allora se a questa promessa pace mondiale che nella quale inevitabilmente dobbiamo confluire non può cioè è la volontà di dio abbiamo determinato però usa la nostra azione ma usa la nostra azione per cui noi come singolo individuo cosa possiamo fare per perseguire questo obiettivo e soprattutto se questo influirà in qualche modo nella sua realizzazione più immediata o nel prolungare i tempi beh certo ovviamente la comunità bahai offre i principi su cui questa pace mondiale dovrà sorgere e su cui abbiamo parlato del del concetto di diversità nell'unità nella diversità un concetto di libera e indipendente ricerca della verità abbiamo parlato di principi legati ad esempio all'emancipazione della donna ma la parità del del tra uomo e donna tra il genere umano è formato da una parte femminile una parte maschile quindi bisogna raggiungere anche questa parità no una parità effettiva quindi nei villaggi non so in africa ma voglio dire nei villaggi dove la donna non aveva la parola nel momento in cui quella comunità ha abbracciato la fede bahai nel consiglio del villaggio devono essersi per forza anche le donne e per fortuna perché devono portare la loro parte alla stessa identica quindi un cambiamento sociale importantissimo e quota e rosa e ma quota e rosa spiritualmente ok quindi è l'obbligo di questa c'è l'obbligo spirituale a livello di profetti ci sono state delle donne probabilmente sì ma ad esempio un libro il corano il libro sacro dei musulmani parla di più di 10.000 nell'ambito adesso non vorrei sbagliarmi se perché mi dimentico se fosse 20.000 o 10.000 comunque nell'ambito adamitico cioè nel 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 corso adamitico della rivelazione divina ci sono dei stati di periodi no cicli epocali no allora il ciclo adamitico è un po quello della fanciullezza dell'umanità inconsapevoli vari popoli del mondo creano la loro cultura ma ogni popolo del mondo ha avuto una sua manifestazione ogni tribù ogni quindi non è che abbandonato ha dato a loro tutti a noi a tutti gli esseri umani quindi sono stati migliaia di migliaia di manifestazioni noi conosciamo quelle più principali che sono arrivate nella fase dell'adolescenza della che adesso noi viviamo l'inizio della maturità del ciclo il ciclo di baha'u'llah è un ciclo molto lungo che praticamente chiude la fase della fanciullezza dell'umanità e adesso siamo nella fase adolescenziale molto molto agitata per arrivare alla fase della maturità la fase della maturità è il famoso millennio d'oro predetto da tutti i tempi cioè il millennio della pace universale ok quindi e quindi conquista del pianeta dal punto di vista dell'unità cioè noi arriveremo a un punto in cui l'essere umano che camminerà questo camminerà su questo pianeta questo quando gli chiederanno tu sei sono un cittadino del mondo prima di tutto poi non abbandoneremo la nostra identità ma prima di tutto siamo cittadini del mondo la percepiamo è questa no adesso quante persone si sentono così già no cioè non è che non ci sia questa consapevolezza in una parte dell'umanità siamo agli inizi però è un'aspettativa no sai cosa si percepisce spesso che c'è anche questa lotta al razzismo però un po strumentalizzata perché perché fa moda spesso non si percepisce una reale vicinanza tra i popoli infatti ad esempio ci sono degli aspetti pratici tipo una lingua ausiliaria oltre a quella nazionale che parliamo questo ci aiuterebbe ad esempio a conoscerci meglio già insegnata nelle scuole una scelta che dovrebbe essere fatto da tutte le nazioni per poter comunicare in modo libero l'esperimento dell'esperanto l'esperanto non a caso la nipote di zamenoff era bahai nel senso che il processo ha delle parti diciamo pratiche che anche il tribunale di giustizia internazionale un sistema di pesi misure monete c'è anche l'economia ovviamente sistema delle risorse ad esempio non più di proprietà delle nazioni che in cui giacciono no ma dovrà essere gestito per come bene a servizio dell'umanità insomma tutto un processo che parte però dal basso quindi il processo non è global non è la globalizzazione dei potenti ma è la globalizzazione dello spirito quello è fondamentale sottolinearlo perché centralizzare la diciamo per così dire i poteri se lo si fa in maniera umana e diciamo fallace si crea qualcosa di estremamente negativo se c'è una guida divina invece che unisce tutto saremo noi no che noi con le nostre volontà individuali creeremo il processo il processo di di creazione di questa nuova civiltà quindi sarà un processo proprio che viene dal basso e che in qualche modo svilupperà questa nuova civiltà mondiale infatti uno dei libri sacri dei testi che i bari leggono si chiama proprio il segreto della civiltà divina o come dicevamo prima la prosperità del genere umano la pace la promessa della pace mondiale sono tutti temi di un in ambito molto molto come dire sociale di un ambito sociale e che hanno una visione e una prospettiva dei secoli futuri quindi siamo qui a convincerci perché a volte anche anche io nel senso perdo a volte la speranza che questo possa in certi momenti perché vedo che più parlo di questo aspetto più sì no no per fortuna nel mondo la consapevolezza sta crescendo ma in occidente c'è un po' di assofazione a questo tema come se non fosse possibile siamo troppo concentrati sull'aspetto materiale e poco sull'aspetto spirituale diciamo almeno a vedere la società del giorno d'oggi al di là delle guerre che è proprio l'apoteosi ma comunque si vede che il potere la politica è intrisa di di mafia diciamo di corruzione cioè non ci si fida più delle istituzioni non ci si fida più di niente perché tutto è corrotto per cui per quello magari riesce più facciamo difficoltà diciamo diciamo che esistono tantissime persone ancora oggi di buonissima volontà che sostengono questa società altrimenti imploderebbe no? e quindi e benvenga perché questo perché ad esempio una società come la nostra e come le nostre società sono sostenute comunque dalla cultura che le antiche tradizioni e gli antichi messaggi divini hanno come ne è creato inevitabilmente quindi i concetti mosaici cristiani dell'amore sono presenti e per fortuna sostengono ancora una società in crisi certo che bisogna fare un passo in più quindi il concetto di unità del genere umano il concetto di accoglienza va pragmatizzato come dire mentre prima erano stati dati dei principi per l'individuo e qualcosina anche per i gruppi e la società in questo momento nei testi Baha'i viene dato una volta per tutte proprio il modo come organizzare questo ordine mondiale dice finora vi ho accennato i testi lo dicono ora vi sto descrivendo come farlo ovviamente adesso qui non posso trattare l'ordine mondiale di Baha'u'llah cioè è una cosa che uno deve appunto l'invito ai convegni in tutto il mondo è quello di dire cioè convegno ma possono leggersi i libri cioè sondate quello che vi circonda l'obiettivo mio qual è il mio torno a conto è quello di creare una massa critica che possa cambiare la mentalità negativa che c'è oggi nell'umanità creare un movimento che però non sia un movimento fino a se stesso ok domanda dal momento che il cambiamento insomma la pace mondiale è inevitabile stabilita da da Dio e chi insomma segue la fede Barai in qualche modo si addopera per come stai facendo te divulgare il più possibile queste conoscenze in questo momento ma come vedono come vedete voi che comunque che portate avanti queste idee coloro che invece stanno perseguendo l'idea di pace in altri modi ossia è bene chi fa una manifestazione in piazza contro un governo corrotto chi allora tendenzialmente si nel senso finisco la domanda può essere magari da qualcuno considerato tempo perso nel senso l'ideale è buono ma l'azione è diciamo inutile o magari può essere considerato anche quello uno strumento che può essere utile per seguire questo obiettivo allora tendenzialmente la comunità non si muove per contrasto cioè non andiamo a protestare contro una parte e non giudichiamo le parti in questo senso nel senso che non crediamo che le parti una delle parti abbia ragione piuttosto che l'altra torta non c'è questa dicotomia nella comunità bai e quindi agiamo cercando di superare queste differenziazioni so che è difficile pensare che questo si possa fare ma si deve fare perché abbiamo visto che in questo momento lo scontro e anche la contrapposizione eccessiva porta a qualcosa che nella società non va bene esiste un'azione che nella comunità si applica anche a livello sociale che si chiama consultazione che ha una procedura ben precisa la consultazione che è un concetto che bisogna riconoscere è stato inserito per dire nei testi anche del Corano per dire ma lo troviamo anche negli antichi testi di altre religioni però adesso bisogna diciamo che questo concetto di consultazione era latente e adesso bisogna metterlo in pratica e cioè la consultazione è intanto un'azione spirituale prima di tutto dove noi ci confrontiamo e le nostre idee le mettiamo sul tavolo come non più appartenenti a noi dove verranno giudicate dal consesso e ci si muove la maggioranza la maggioranza decide ma anche chi è in minoranza dovrà far sì che quella scelta possa essere messa in pratica cioè in che senso se c'è una parte che non è prettamente in accordo non deve rimare contro ma deve fare in modo che quell'azione che è stata presa maggioranza venga messa in pratica e questa azione che a noi sembra assurda nel mondo in cui viviamo perché noi cerchiamo invece la contraposizione invece ha una saggenza insita proprio nella descrizione che sto facendo perché se è giusta ne avremo un beneficio tutte le parti non vanno beneficio se invece anche se la maggioranza ha sbagliato e quindi è sbagliata il fatto di poterla raggiungere nel più breve tempo possibile ci farà accorgere che era sbagliata e quindi i danni saranno limitati ecco che allora la saggezza nel non contrapporsi eccessivamente agli aspetti della della consultazione quindi dei consessi dove si decidono le cose è fondamentale per i motivi se vi ho spiegato abbastanza in sintesi perché ovviamente è un processo un po' ovviamente che andrebbe prenderebbe ovviamente una una trattazione un po' più lunga quindi il fatto di non gli eccessi di contraposizione non portano all'unità e quindi vedete come è insito il processo democratico no? andiamo discutiamo le idee che noi portiamo le mettiamo a servizio della comunità del gruppo perché il gruppo decide su quelle idee dobbiamo sentirci distaccati dalle idee che portiamo non dobbiamo difenderle perché noi diamo un'idea perché la diamo proprio per il benessere della comunità o del gruppo o della della società e a quel punto decidiamo democraticamente su quelle idee e non le contrastiamo perché la maggioranza ha deciso questo è il rispetto della decisione e questo ripeto da un lato se è bene porterà un bene per tutte e due le parti o per le parti in causa se sarà invece una scelta sbagliata averla raggiungere nel più breve tempo possibile diminuirà i danni eventualmente invece il contrasto eccessivo non porta mai a compimento di nulla e quindi perdiamo tempo siamo in continua perdita di tempo nel tempo dell'umanità perdiamo tempo continuamente secoli no ma è così cioè è così abbiamo perso secoli nel raggiungimento della pace secoli capabilità dell'uomo e ostinazione secoli e secoli allora io farei un attimo una pausa su questo argomento perché ci ci chiedono in particolare Michele da Venezia ci chiede di magari ampliare un argomento che avevamo toccato la scorsa volta e si parla di entrate e uscite finanziarie nella gestione ah sì allora buonasera Valentino e buonasera al gentile ospite a cui chiedo cortesemente il modo in cui vengono gestite le entrate e le uscite finanziarie e i cespiti afferenti all'esercizio religioso e come vengono nominati i ragionieri che all'apice lo determinano l'ospite aveva introdotto la scorsa volta grazie sì beh questo è un argomento importantissimo perché è materia umana non è che senza un'attività finanziaria riesci poi a svilupparla ed è anche un elemento di come dire di importanza diciamo materiale ma anche spirituale faccio racconto una breve storia quando io scelsi di intraprendere questa strada proprio a Venezia e mi ricordo che dopo tre mesi ero diventato tesoriere della comunità della comunità Baha'i questo per dire quanto quanto sia come dire quante cose nascoste ci siano nella comunità Baha'i nessuna nel senso che veramente è una è una comunità che parte dal basso ecco i soldi vengono acquisiti e gestiti nella comunità da parte di chi ha scelto di fare questa strada dal punto di vista finanziario possono partecipare alla creazione cioè all'attività Baha'i alle attività Baha'i e quindi finanziare le attività Baha'i che parliamo proprio dell'organizzazione Baha'i solo i Baha'i quindi i tesorieri che sono nominati ed eletti in assemblea noi abbiamo in questo momento il 21 di aprile che è il giorno di Rezvan quando Baha'u'llà declarò la propria missione nel giardino di Rezvan a Baghdad città della pace e lo so però e non a caso anche lì andrebbe sviluppato un certo discorso però dicevo poi ho preso un po' il filo del discorso perché però parlavamo proprio del fatto che solo solo i Baha'i possono partecipare e contribuire e quindi le attività Baha'i vengono finanziate solo da chi partecipa e sceglie di intraprendere questa strada le persone e gli amici dei Baha'i che vogliono aiutare il processo di costruzione di pace o la prosperità del genere umano lo possono fare però su attività specifiche cosa significa stiamo costruendo un'attività educativa dove partecipano Baha'i non Baha'i così come viene in tutta la parte del mondo perché la comunità è aperta non è chiusa su quell'attività educativa tutti possono contribuire giusto e magari quell'attività viene organizzata dalle persone che l'hanno organizzata e quindi compartecipano però l'organizzazione Baha'i non riceve denaro se non fa parte no questa è una grande legge per evitare polemiche sì per evitare quello che è successo in passato cioè essere diciamo soggetti a magari a persone che magari possono entrare e anche come dire mettere dei soldi e poi ricattare magari la comunità oppure ricoprire dei ruoli ecco un elemento che io ho visto in questi vent'anni molto tranquillamente lo dico e cioè che è incentivata la partecipazione fino proprio cioè non si vuole far sì che ci siano persone che da sole perché hanno magari la fortuna di avere più denari ma tutti partecipano vengono incentivate a questa partecipazione alla costruzione dell'ordine mondiale ad esempio quando in questo momento si sta costruendo un mausoleo di Abduba nel centenario ad Haifa no e quindi è un progetto che la comunità Bahai ha progettato e ha creato questa organizzazione per poi ricevere le risorse finanziarie da ogni Bahai del mondo ok e come appunto come vengono gestite le uscite allora cioè come vengono impegnati i fondi vengono impegnati per i bisogni dell'organizzazione della comunità per i progetti socio-economici per qualsiasi attività che la comunità ovviamente c'è una rete di tesorieri che parte da hanno dei nomi specifici si chiamano fiduciari c'è un nome molto difficile che non vi non vi pronuncio che sarebbe il concetto del diritto di Dio è un nome in arabo no che perché dietro c'è tutta un'economia da c'è una descrizione abbastanza precisa di come contribuire come il Bahai è invitato a contribuire nei confronti della comunità no e quindi però è sempre un atto spirituale è sempre un atto legato alla tua capacità di comprendere il processo non vengono mai proibita la richiesta diretta ovviamente se c'è un'esigenza viene viene spiegata però si cerca di far sì che l'organizzazione che deve gestire i beni faccia sapere alla comunità di questa esigenza se non lo è già corrente perché ovviamente poi le delibere che vengono prese sono anche al corrente siamo al corrente di questo aspetto quindi ecco è una costruzione per certi versi che ovviamente adesso non si può certo spiegare in breve tempo però la costruzione dell'organizzazione Bahai è una costruzione molto io dico perfetta divinamente rivelata proprio perfetta perché perfetta nel senso che ha una costruzione in modo tale che tu non sei mai non ti senti mai obbligato ma ti senti partecipe e solo con la partecipazione che riesci a comprendere nel valore le persone che sono fuori dalla partecipazione in effetti sono fuori anche dal processo come dire non come dire tu puoi essere anche un Bahai che magari sei attratto molto dagli iscritti dalla parte più intellettuale più dei principi però poi nell'azione cioè se tu vuoi costruire veramente questo nuovo ordine mondiale devi partecipare non puoi se non sei partecipe non riesci nemmeno a comprenderne la capacità e non hai nemmeno una visione di quello che accadrà e nel momento che tu sei partecipe senti il desiderio di partecipare anche con con la tua risorsa finanziaria perché è un desiderio che ti proviene da dentro non è un desiderio dovuto ecco questo è questo è l'aspetto che a me ha colpito cioè siamo veramente liberi in questo una grande libertà ti dico dopo tre mesi ero usato siamo quattro gatti come un po' là per tutto questo ovviamente lo dico perché ovviamente è una comunità molto grande però ovviamente è composta da piccole comunità magari in India ce ne sono di grandi piuttosto che in Brasile o in Congo piuttosto che in altre parti del mondo però tendenzialmente in occidente sono delle piccole realtà però molto ben diffuse con la loro organizzazione già ben definita e quindi ecco quindi non c'è i soldi sono una una risorsa giusta e buona come tutte le cose certo no mi interessava hai detto che ci sono dei progetti che vengono portati avanti direttamente dai Bahai e dei progetti invece sì ad esempio la comunità Bahai in tutto il mondo in questi ultimi vent'anni ha sviluppato dei progetti educativi che sono nati in Colombia per dire in Colombia perché lì c'era l'esigenza e la comunità colombiana aveva sviluppato questo questi progetti educativi si chiamano istituti RUI e l'URI era quello il quale aveva ideato un po' il sistema e questi progetti educativi sono progetti che cercano di con la si sono aperti a tutta la comunità dove si sviluppano quindi anche qui noi a a Padova a Venezia dove vengono e sono aperti a tutti e sono dei libri che vengono fatti insieme e da lì da dove da questi libri possono scatturire delle iniziative socio-economiche specifiche ovviamente se sono delle delle attività socio-economiche dedicate a qualcosa che esula dall'organizzazione Bahai che possono essere anche non so la raccolta non so faccio banalizzo ma dico la raccolta delle immondizie nel tuo quartiere o il fatto di collaborare per qualsiasi attività socio-economica della tua zona attività beh quello se uno vuole contribuire lo fa non è che deve passare per forza attraverso la tesoria Bahai voglio dire ok anche se lo fa attraverso la tesoria Bahai però la tesoria Bahai lo segna come un progetto definito cioè sono soldi che non entrano dentro nelle casse dei Bahai perché sono destinati a quel progetto ecco un'altra caratteristica dei fondi Bahai è che noi Bahai possiamo dedicare i nostri soldi a dei fondi specifici ok potete scegliere sì ad esempio noi a Padova abbiamo scelto la comunità padovana da tantissimi anni ha scelto di sviluppare un progetto socio-economico ad Haiti educativo e quindi noi quei soldi quella parte di contribuzioni la stiamo dedicando a quella scuola di Haiti ok perché per non so quale motivo adesso non me lo ricordo perché i Bahai per Padova sono passati tanti quindi io sono da dieci anni più o meno e quindi quello è un progetto socio-economico però gestito dai Bahai e quei soldi vanno però a quel progetto cioè c'è proprio una questione spirituale nel senso che tu allora tendenzialmente è ovvio che ci vuole anche una certa maturità spirituale per destinare dei soldi non è che puoi destinare non so alla crescita demografica delle formiglie adesso voglio dire non si gioca su queste cose insomma ecco tendenzialmente si cerca di dare un ampio spettro no tipo all'esigenza della comunità di Padova piuttosto che quella nazionale oppure all'esigenza della comunità mondiale perché poi la Cassione di giustizia che ha una visione mondiale può dedicare questi soldi immediatamente a lo so a delle zone magari più più bisognose non pensiamo che il cosiddetto terzo mondo sia più bisognoso dell'occidente perché nel senso che dal punto di vista dei soldi a volte ci sono nazioni che contribuiscono in maniera veramente sorprendente non sono certo nonostante sì sì questo per dire che il processo è un processo così innovativo che scardina proprio anche delle così modi di pensare magari un po' obsoleti si sta creando una nuova dimensione e quindi comunque sì la parte dei soldi è abbastanza aperta e palese insomma non ci sono ok penso che abbiamo risposto in maniera esaustiva allora avevamo un altro audio sì allora ti avevo chiesto se adesso questo audio fa parte sempre di questo canale youtube che io ho comunque lanciato lì nel canale telegram ed è il settimo la settima lettura che poi è stato diviso in sette parti sono nove minuti potremmo ascoltarlo come elemento di riflessione anche in chiusura di questa se ti interesse può essere utile insomma vado sì anche perché la mia voce potrebbe addormentare no qualcuno parte sette il compito di trovare una strategia per lo sviluppo globale che acceleri il conseguimento della maturità da parte del genere umano costituisce una sfida a rimodellare radicalmente tutte le istituzioni della società i protagonisti ai quali la sfida è rivolta sono tutti gli abitanti del pianeta il genere umano nel suo complesso i membri delle istituzioni di governo a tutti i livelli coloro che operano negli organismi di coordinamento internazionale gli scienziati e i pensatori sociali tutte le persone dotate di talento artistico tutti coloro che hanno accesso ai mezzi di comunicazione e i leader degli organismi non governativi la risposta richiesta deve basarsi su un incondizionato riconoscimento dell'unità del genere umano sull'impegno a dare alla giustizia il ruolo di principio informatore della società e sulla determinazione di utilizzare al massimo le possibilità che un sistematico dialogo fra il genio scientifico e quello religioso della razza può offrire per la formazione delle capacità umane l'impresa richiede un radicale ripensamento della maggior parte dei concetti e dei presupposti che oggi governano la vita sociale ed economica deve essere inoltre associato alla convinzione che per quanto lungo il processo e malgrado le sconfitte il governo degli affari umani potrà essere condotto su binari che servano ai reali bisogni dell'umanità solo se l'infanzia collettiva del genere umano si è veramente conclusa e se sta sorgendo l'età adulta questa prospettiva rappresenta qualcosa di più che un ulteriore miraggio utopistico immaginare che un'impresa delle dimensioni qui prospettate possa essere intimata a popoli e nazioni scoraggiati e antagonisti va contro tutto quello che la saggezza ci ha insegnato solo se il corso dell'evoluzione sociale è giunto come Baha'u'llah sostiene a uno di quei momenti cruciali nei quali tutti i fenomeni dell'esistenza sono improvvisamente spinti verso nuovi stadi del loro sviluppo tale possibilità diventa concepibile la profonda convinzione che una trasformazione così grande nella coscienza umana è in atto ha ispirato le opinioni esposte in questa dichiarazione a tutti coloro che vi riconoscono suggerimenti familiari provenienti dai loro stessi cuori le parole di Baha'u'llah danno la sicurezza che in questo giorno incomparabile Dio ha conferito all'umanità risorse spirituali del tutto adeguate alla sfida o abitatori dei cieli e della terra è apparso ciò che non era mai apparso prima questo è il giorno in cui i più eccellenti favori di Dio sono stati dispensati agli uomini il giorno in cui la sua più potente grazia è stata infusa in tutte le cose create il tumulto che oggi sconvolge le faccende umane non ha precedenti e molte delle sue conseguenze sono enormemente distruttive pericoli mai immaginati in tutta la storia si addensano attorno a un'umanità tormentata ma il più grande errore che i leader del mondo potrebbero compiere in questa congiuntura sarebbe quello di permettere che la crisi faccia dubitare del risultato un mondo sta scomparendo e un mondo nuovo sta lottando per nascere le abitudini gli atteggiamenti e le istituzioni che si sono accumulati nel corso dei secoli sono sottoposte a prove che sono tanto necessarie allo sviluppo umano quanto inevitabili ai popoli del mondo è richiesta una misura di fede e di determinazione che sia pari alle immense energie di cui il creatore di tutte le cose ha dotato questa primavera spirituale della razza siate uniti nelle opinioni è l'appello di Baha'u'llah è un sol uomo nei pensieri ogni mattina sorga migliore della sera che l'ha preceduta e ogni giorno più ricco del suo ieri il merito dell'uomo è nel servizio e nelle virtù e non nello sfarzo dell'opulenza e della dovizia badate che le vostre parole siano forbite da uziose fantasie e desideri mondani e che le vostre opere siano purificate dall'astuzia e dal sospetto non sperperate i tesori delle vostre vite preziose ad incalzare affetti turpi e corrotti e non sprecate energie nel curare i vostri interessi personali siate generosi nelle ore di prosperità e nei giorni di distretta pazientate l'avversità è seguita dal successo e alla gioia succede il dolore guardatevi dall'ozio e dall'indolenza e afferratevi a ciò che giova a tutti giovani e vecchi nobili o umili attenti a non seminare zizzani e di dissenso fra gli uomini e a non piantare i rovi del dubbio in cuori puri e radiosi e io ti chiedo siccome nella parte iniziale parla di questo passaggio dove dice che si dovranno in qualche modo convincere i grandi potenti chi fa parte delle grandi organizzazioni e quant'altro ma si parla proprio delle stesse persone che ci sono adesso diciamo non credo che le persone che ci sono ora abbiano consapevolezza del processo un processo che sappiamo che non sarà immediato purtroppo quello che facciamo oggi è cercare di scalfire i cuori induriti degli uomini e anche i nostri perché non è che facciamo grandi difficoltà ad accettare il bene questa è la mia percezione di questi 54 anni facciamo difficoltà ad accettare il bene e quasi quasi ci sentiamo meglio quando parliamo di problemi e delle difficoltà e questo non fa altro che crearli quindi dobbiamo conquistarci al bene e pensare che noi siamo già in un ipotetico paradiso terrestre che ci è stato donato se vogliamo come dire accettarlo e accettandolo rispettarlo potremmo già vivere in una dimensione veramente paradisiaca e questo è già in potenza in sito nella nostra realtà di esseri umani il punto è che c'è una parte di questi di noi una parte degli esseri umani che non crede in questo che ha abbandonato questa speranza che non lavora per questa per questa diciamo ipotesi e in questo momento anche se sembra non so se sembri strano però sicuramente l'atteggiamento che la comunità Bahai ha scelto è quello di intraprendere degli insegnamenti educativi cioè l'educazione dei giovani soprattutto dare speranza dire che loro sono delle miniere ricche di gemme preziose che loro sono il futuro dell'umanità che i giovani hanno le capacità per cambiare il mondo quindi la comunità Bahai si muove con dei progetti sui giovani noi anche a Parva abbiamo delle piccole classi dove teniamo ovviamente questi progetti spirituali ecoducrativi che parlano di questi concetti dove si parla quindi di riprendere anche poi i messaggi che sono stati rivelati nel passato non c'è nulla di contraddittorio e quindi riprendere e dare coraggio alle nuove generazioni quindi i progetti socioeducativi sono fondamentali per rigenerare una nuova società dobbiamo crederci in questo e il processo ovviamente è un processo che è lungo cioè o sarà tanto più lungo tanto più resistente sarà la la capacità dell'uomo di resistere al bene e alla volontà di cambiare d'accordo siamo in conclusione ricordiamo allora nuovamente il prossimo weekend allora convegni il convegno di Galzignano qui nel nord-est uno dei 10.000 oltre 10.000 convegni a livello mondiale dove la comunità BAI si dimostra alla società e propone come dire i temi come dicevo socio-economici e come si muove i progetti educativi ed è si propone delle domande una consultazione su questi temi come creare una nuova società ma non è limitata ai BAI la comunità BAI è aperta alla società dove vive insomma quindi non c'è limite quindi io manderò sul canale Telegram BAI Padova sì dove qualcuno vorrà partecipare anche solo una giornata un pomeriggio puoi iscriversi perché dicevi è venerdì sera venerdì sera sabato tutto il giorno e domenica ok da mattina poi manderò anche il programma e poi va bene però in quel canale noi insomma mandiamo un po' le attività che facciamo in generale insomma d'accordo bene grazie bene sembra che anche oggi insomma abbiamo approfondito alcune tematiche abbastanza diciamo magari difficile poi non subito comunque avremo la possibilità di risentirci sicuramente così andremo ad approfondire quello che magari sarà stato trattato durante questi tre giorni anche ci farei un breve resoconto giusto assolutamente sì e poi andremo a come avevamo anticipato prima magari ad espandere il tema dell'apocalisse che avevamo visto sì che era un tema che ha ha suscitato un po' di interesse abbastanza interesse negli ascoltatori anche quello è un tema interessante sì assolutamente ok d'accordo grazie Valentino grazie a Radiogramma 5 grazie a Ciccoli Ghina grazie a te e grazie a tutti quanti e alla prossima alla prossima grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti